Telefonate continue sino a 180 in un solo giorno e poi pedinamenti, insulti, minacce di morte e danni all'autovettura. Un incubo durato un anno e mezzo, quello vissuto da una donna di bitritto, vittima della follia del suo ex compagno che non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. L'uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della locale procura della Repubblica. Il provvedimento è scattato a seguito delle indagini condotte dai militari dopo le due denunce presentate dalla donna, la prima circa un anno e mezzo fa, quando hanno avuto inizio le molestie. In base a quanto ricostruito nel corso dell'attività investigativa, il 56enne, non rassegnandosi alla rottura della relazione con la ex compagna, ha cominciato a perseguitarla in un'escalation di comportamenti via via sempre più asfissianti. Prima le telefonate ad ogni ora del giorno e della notte, poi i messaggi contenenti insulti e minacce di morte. Nelle ultime due settimane la situazione è precipitata. L'uomo ha iniziato a seguire la vittima in strada, arrivando a danneggiarle anche il finestrino dell'auto. Pochi giorni fa, l'ultimo episodio con il 56enne che ha fermato l'ex compagna chiedendoli insistentemente di tornare con lui e, a rifiuto della donna, li ha strappato dalle mani le chiavi della vettura, minacciandola ancora una volta sotto gli occhi di decine di passanti. Alla luce di quanto accaduto è scattato il provvedimento cautelare del giudice nei confronti dello stalker rintracciato ed arrestato dai carabinieri. Per l'uomo si sono così aperte le porte del carcere di Bari e accusato di atti persecutori.